Ciao! Mano, non ti sape dire che albergo è sicuramente? Mamma mia, guarda qua, guarda qua! Guarda qua! Guarda che roba qua, guarda! Impedibile! E' un ramo! Paolo, un saluto per la platea! A tutti! Tanti saluti! Buonasera! Questo è il Rotondino, il figlio di Pasquale Z8, Golf Delta Charlie, che da grande sarà il radiomatore anche lui. E' vero? E' vero? Da grande sarà il radiomatore anche tu? Ma è benissimo così! Grazie a tutti! Allora, stasera che ci mangiamo? Stasera io vi mangio a Pasquale! E' vero? Un attimo sto vedendo una guarigione! Certo! Grazie a tutti i radiomatori questa sera sono tra di noi! Ma poi dicono che i radiomatori non ci sono! Bene infatti! Allora com'è Giovanni? Sei appassionato di QRP? Sì, bassissima potenza! Già! Gran bella passione! Allora con la fiera di Napoli che poi è capua faremo il primo World Championship QRP Station! Cioè le persone verranno a trasmettere da una stazione radio che noi monteremo in fiera! E praticamente faremo una classifica! Chi vincerà questa classifica? Ricchi premi e quotidiano! Bellissimo! Bella iniziativa! Complimenti! Non è che poi iniziativa! Questo è meglio il bellino! Solo la prima volta! E' tutti i botti! Negli anni passati! Quei grandi muse di plastica! Che bello aspetto! Che tiene rivietto! Un'amana donna! 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 Ehi, se puoi mangiare tu! Buongiorno! Beppe, allora che strada di Beppe? Qualcosa dire? Abbiamo cercato praticamente l'associatoia. Sulla pianura a Marano, non parte dalla pianura. Ma mi hanno detto che tu... No, io ci facevo una strada, io ci passavo, perché con me arrivavo a giocare. Tenevamo la moto d'accordo a soli, non ti posso dare la legge. Beppe, ma mi hanno detto che tu sei arrivato a Qualiano, per raggiungere qui a Marano Pianura sei arrivato a Qualiano. Ma lui ha detto, io mi trovo già lì, hai capito? Faccio subito, non prendo la tangenziale. Infatti sono stati i primi a venire. Un'ora e mezza in ritardo. Ciao tutti! Ehi, com'è stato? Hai mangiato? Hai gradito? Hai piaciuto? Mi ricordo, tenevo una linea necche. La necche, te la ricordi? Una barroncina. Tenevo il dietro esterno, lo tenevo i metri. Andiamo lì a sognare al bavare. Dimi che i barracchini, vado con il terreno. Soprattutto tu fai le foto e io ti faccio la ripresa. Bellissimi! Buonasera amici, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera. Allora, com'è questo posto? Allora, com'è questo posto? Anzi, qui si può portare. Oddio, ok. Noi lo vediamo con questo video. Questo film andrà sul canale YouTube Bari Napoli. Bello, molto bello. Complimenti e grazie, grazie per la ripresa. Come si mangia qua? Come si è mangiato fino ad ora? Beh, a parervi io divinamente. Ma è chiaro che poi la cosa è successiva. Io ho trovato quel fiorillo imbuttonato, semplicemente eccezionale. Se hai assaggiato e sentito la zuppa di cozze, sentirei che è buona. E allora rimedierò. Non l'ho ancora assaggiata, ma l'assaggerò presto. La pizza l'hai presa? Comincio a gustare già la pizza, poi ci ridornerai. Sicuramente. Grazie, ciao, buona sera. Vai, vai, giratevi la foto, vai, giratevi. Girate, giratevi, una foto. Oh, scuro la foto. Ma ne un'altra, vai. Vieni più vicino, vieni più vicino. Aspetta, vieni più vicino davanti di me. Ali. Oh, guardate, guardate chi ci sta, guardate chi ci sta, guardate. Andrea. Andrea, ma chi è? Andrea. Guarda lì, guarda, guarda qua. Andrea, guarda qua, guarda. Andrea, guarda. Che ci sono? Che so? Ciao. Chi in lo schermo, Andrea? Chi si vede ne lo schermo, Andrea? Chi si vede ne lo schermo? Chi wisti qua. Sura dias Maggiòri? Sì, non se ne ha accorto, sì? Hai visto Andrea, hai visto? Tutte inizie, perché non so? E' un po' di più. Il mio figlio è un malattia, la gente è passata via. Quello che ho visto io, non è neanche te, che erano capitale dell'esercito. Vabbè, alla fine non mi ha arrivato a fare la prima, no? Sì, sì, sì. Ma lui, alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Non si è fatta in mezzanotte! Il tuo goccio l'alice punto 8! Ahahahah! Goccio e alice! Io lo so, era uno studio che siamo pariti.